Eccoci ragazzi, buongiorno. Allora, video al volo per andare un attimo ad approfondire, a scoprire la nuova offerta di Scuola per Ricchi. Tre mesi, possibilità di entrare in Scuola per Ricchi per tre mesi, con il massimo supporto che Scuola per Ricchi vi può offrire. Offerta assolutamente da non perdere, su cui voglio fare due parole, semplicemente per rendervi un attimo più chiaro ai più, lì fuori, in ascolto, che cos'è davvero Scuola per Ricchi e quanto può davvero impattare sui vostri risultati. Quindi, sia che voi siate in prendito... Ah, breve parentesi. Mi perdonerete per l'audio, sicuramente non sarà eccellente, anzi, tutt'altro. Sono qua in una casa ancora mezza vuota che dobbiamo un attimo redare e quindi ci sarà un rimbombo imbarazzante, ci sarà già il team video con le mani nei capelli, non solo per l'audio, ma anche perché mi diranno, Vigno, non sei neanche in luce, non hai messo neanche un faretto, sei in mezzo all'ombra, cosa stai facendo? Vabbè, ragazzi, volevo fare questo video così un po' abbraccio, un po' alla veloce per dirvi alcune cose, nei confronti dell'offerta che abbiamo appena tirato fuori e che durerà solo fino a fine mese. Per tutti gli imprenditori, libri professionisti, all'ascolto, non vi lasciate sfuggire questa opportunità. Entrate in Scuola per Ricchi e testate quanto possiamo impattare sul vostro business anche in soli tre mesi. Non vi preoccupate che tre mesi bastano e avanzano. Vi renderete conto di quanto Scuola per Ricchi può davvero stravolgere i vostri risultati. E ragazzi, stravolgere non è una parola messa lì perché va bene con il copy, ok? Quanto davvero, Scuola per Ricchi, può stravolgere i risultati della vostra attività in molto meno di tre mesi? Fidatemi. Dopo una prima consulenza, che tra l'altro c'è pure nel pacchetto, vi potrete rendere conto di già come molte cose possono cambiare. Detto questo, quindi, volevo semplicemente fare questo video per far capire meglio le persone là fuori, in ascolto a quelli che si stanno avvicinando al nostro mondo, alla nostra scuola. Che cos'è davvero Scuola per Ricchi e quanto può impattare? Allora, la parola chiave che vi dovete stampare sulla fronte quando pensate a Scuola per Ricchi è interattività. Cioè, il livello di interattività, il livello di supporto che voi ricevete grazie a Scuola per Ricchi è un qualcosa di introvabile in altri libri. Scuola per Ricchi, intanto, prima cosa, per questi tre mesi cos'è che riceverete? Davvero, ragazzi, fidatevi, c'è anche la garanzia, ma garanzia a parte. Entrate, testate con mano, toccate con mano quello che possiamo fare per voi, entrate già solo nell'Academy, Entrate in contatto con il tutor, fatevi la consulenza e vedete come quanto Scuola per Ricchi può davvero stravolgere il vostro business. Detto questo, torniamo a noi. Interattività, supporto. Scuola per Ricchi, considerate questo, appena entrate nell'offerta da tre mesi, per prima cosa venite, intanto avete accesso alla piattaforma, con la community, dove potete confrontarvi, fare domande, approfondimenti, eccetera. Avete accesso all'Academy, che sono oltre 250 ore di formazione bigluchiana su monetizzazione e marketing, in realtà su tutte le cinque aree della ricchezza, che ricordo al volo, ma lo faccio veramente veloce, sono Mindset, gestione finanziaria, imprenditoria, marketing e vendita. Cinque aree fondamentali che bisogna sapere, bisogna conoscere, sulle quali bisogna avere le giuste informazioni per poter avere successo nella vita. Prima cosa. Ma poi, appena entrati, subito venite messi in contatto con il vostro tutor personale. Che cos'è un tutor personale? Porca mannaggio, ragazzi. È ciò che potrà fare veramente la differenza nel vostro percorso, perché un conto è entrare in una piattaforma con dei corsi, benissimo, con qualità eccellente, perfetto, ma essere un po' lasciati a se stessi. Uno deve capire un attimo cosa studiare, come studiarlo, come applicarlo, se applicarlo, eccetera. Con il tutor tutto diventa, sorry, estremamente personalizzato ed estremamente più che altro, come dire, per l'appunto interattivo. Cioè, ho studiato un certo tipo di corso, un'informazione, un dubbio, una domanda, vorrei un confronto, mi serve un parere da parte di un esperto. Ecco, precisiamo, i tutor, chi sono i tutor di scuola per ricchi, ragazzi? Non è che sono tre che vi hanno trovato lì e vi hanno detto, oh, vuoi fare il tutor? Cavolo, ragazzi, sono persone che sono intanto da anni all'interno della nostra, che collaborano con la nostra azienda da anni. 100% trainizzati in pieno stile Big Luca, hanno fatto anche dei training direttamente con Big, delle call con Big di approfondimento su alcune tematiche, non solo con Big, anche magari con me, con il Buon Caloni, eccetera. E seguono perfettamente la nostra filosofia, i nostri insegnamenti nei confronti di business, fare soldi, monetizzare, eccetera. E il tutor è sempre a vostra disposizione. A voi avrete la vostra chat su Scuola per Ricchi, all'interno della piattaforma, e qualunque dubbio, qualunque domanda vi verrà in mente, voi potrete avere sempre un diretto confronto con un esperto che vi saprà consigliare. Considerate anche questo, i tutor hanno l'obiettivo di consigliarvi e di supportarvi al meglio. Per questo motivo, il tutor non è lasciato, tra l'altro, solo a se stesso. Ma ovvio, questi tutor hanno a disposizione, si confrontano tra di loro, ci siamo anche io, Caloni, che diamo supporto, e per domande molto specifiche ci si confronta. Quindi in realtà avete più supporto ancora del solo tutor, perché in realtà a volte interveniamo anche direttamente noi per dare il giusto supporto, noi intendo io e Caloni, quando serve, per dare il giusto supporto, per far dare al tutor la giusta risposta in una maniera più completa e desaustiva possibile. Questa è una breve parentesi. Ma comunque, il discorso è che il tutor dovete vederlo come una persona con il quale confrontarsi costantemente su qualunque dubbio, domanda, ostacolo si presenti all'interno della vostra attività. E magari anche per approfondire alcune tematiche riguardanti alcuni corsi, per capire meglio, ok, sono a questo punto, adesso cosa mi consigli di studiare e di approfondire? Quindi è una persona che vi prende per mano e vi guida verso il vostro risultato, verso i vostri obiettivi. Non solo perché non è finita qua, questo è una parte dell'interattività, del supporto di Scuola per Ricchi, perché poi ci sono anche le consulenze. E in questa offerta da tre mesi, io ho voluto che ci fosse almeno una consulenza con uno dei nostri coach ufficiali, potrei essere io, potrebbe essere Caloni, potrebbe essere Antonio, Diego, o in base a quello che vi serve. Per farvi capire e testare al 100% quanto Scuola per Ricchi può davvero fare la differenza. E con le consulenze vi renderete conto, in particolare con le consulenze, vi renderete conto di questo. Perché fare una consulenza dove si vanno ad analizzare nel dettaglio magari i vostri numeri, quello che state facendo, quello che lo state facendo, tutto e sempre con il massimo livello di privacy. Questo lo rendiamo chiaro fin da subito. Nel caso ci sia qualcuno, come sappiamo, che preferisce rimanere occulto, non far sapere che succede da noi, eccetera. Per tutta una serie di motivi. O comunque già solo perché non vuole che si sappia, che ci siano, non vuole che i numeri... Magari ci sono persone che hanno paura che poi i numeri vengano condivisi, che le consulenze vengano condivise, rese pubbliche. Assolutamente no, ragazzi. Ehi, mi raccomando, iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing, business e profitto. a meno che non ci sia il consenso da parte dello studente, in quel caso sarebbe diverso. Ma chiariamo questo. Ma a parte questo, quindi consulenza, ragazzi, entrate in quella per ricchi, testateci con la consulenza e vi renderete conto di quanto... di quante cose in realtà, anche se voi pensate che fate già tutto quanto come si deve, sapete già tutto, a volte capita, entrate in consulenza, avete un parere esterno da parte di professionisti che riescono a vedere la vostra... perché poi, questo è un'altra cosa, voi potete essere anche imprenditori, libri professionisti estremamente bravi, schillati, che magari studiano marketing anche da tempo, per conto proprio, ma molto spesso, molto spesso, e questo lo dico anche, tra l'altro, me lo dico anche a me stesso, ok? un confronto da parte di una persona esterna che riesce a vedere la situazione da fuori può essere estremamente utile, questo è il motivo per il quale ancora oggi io su alcune cose magari mi voglio confrontare magari con i buon caloni, quando possibile anche direttamente con Big, perché un conto è essere immerso nella propria attività al 100% e vedere le cose da un certo punto di vista, il farlo vedere da qualcuno di fuori può da... che ne sape ovviamente, ragazzi, cioè che sa di che cavolo si sta parlando o sa come si monetizza nel migliore dei modi, vi ricordiamo che noi siamo orientati alla massima monetizzazione, quindi tutto quello che noi facciamo è per monetizzare al massimo, per noi diventa fondamentale, non abbiamo altre metriche, non ci basiamo sull'ego dell'imprenditore, non vogliamo semplicemente far fatturare di più le persone, il nostro obiettivo è come riusciamo a prendere l'imprenditore, il libro professionista che sia, o la persona che parte da zero e come gli mettiamo più soldi possibili nel conto personale, fate perdere le crescite di fatturato, le operazioni di un mega super long term, il nostro focus principale rimane quello di mettere i più soldi possibili nel conto in banca personale, comunque, quindi, vi stavo dicendo, un punto di vista esterno può fare come la differenza, vi fa intraprendere a volte direzioni completamente diverse, vi fa capire dov'è che in realtà non si sta ancora ben lavorando, cosa può mancare al vostro business, cosa è sbagliato, o dove magari ce lo spinge l'acceleratore, non sapete quante volte in consulenza mi arriva magari l'imprenditore che mi dice esattamente, magari anche dopo che gli faccio alcune domande, mi dice i suoi numeri, mi dice i dati che devo sapere e poi prima di andare avanti magari mi dice il cosa vorrebbe fare e non sapete quante volte mi ritrovo a stoppare l'imprenditore e a farlo ragionare su, aspetta, tu mi hai appena detto A, B, C, mi confermi che quello che mi hai detto è questo? Sì, ok, se il guadagno ce l'abbiamo qua, tu perché adesso mi vuoi fare Y? Non so se è chiaro questo esempio, però mi capita davvero spesso, ragazzi, anche a volte, magari a volte anche guidati chissà quella cosa, magari o dall'ego o a volte addirittura anche dalla noia può capitare, ok, da una piccola mancanza di motivazione, uno cerca di inventarsi cose, modi di guadagnare magari diversi o cerca di implementare una nuova roba all'interno dell'azienda completamente inutile ma pur di far qualcosa o dimostrare a se stesso che si sta facendo qualcosa quando invece poi tu gli fai notare dov'è che dovrebbe spingere l'acceleratore dicono cazzo, in effetti è vero e iniziano a spingerli comunque, senza perdersi troppo su questo argomento academy, tutoraggio, coach ufficiali con la consulenza, mi raccomando ragazzi, davvero, fidatevi, la consulenza è qualcosa di micidiale, venite a testarci ma non solo perché stiamo parlando anche di masterclass e in questo pacchetto in questi tre mesi mi è voluto inserire tutte le masterclass poi c'è anche l'offerta da sei mesi che è ancora più allettante perché di consulenza ne ha tre avete il tutor per sei mesi va bene però mi voglio concentrare adesso un attimo su questo primo approccio a scuola per ricchi ok? un prezzo ragazzi veramente che è al limite dell'imbarazzante è praticamente regalato considerate che ecco piccola parentesi già solo la consulenza valore 1000 euro quindi in realtà già solo la consulenza vale come gli interi tre mesi in più vede tutto il resto tra cui le masterclass di cui vi stavo parlando le masterclass sono una settimana e che cosa sono queste masterclass? intanto sono due con i nostri coach ufficiali esperti una con l'ospite speciale quindi noi ogni mese invitiamo un ospite speciale all'interno di scuola per ricchi che possa portare la sua expertise le sue conoscenze ai nostri studenti quindi troviamo magari una persona particolarmente schillata su un particolare argomento che ovviamente è sempre correlato al diventare ricchi ragazzi mi pare abbastanza ottimo e bene precisarlo e la portiamo all'interno di scuola per ricchi per far trasmettere i suoi segreti la sua formazione le sue informazioni di valore ai nostri studenti in modo tale che loro possano risfruttare queste informazioni all'interno del loro business poi c'è anche una masterclass addirittura con Big Luca una volta al mese Big fa una masterclass che principalmente è Q&A in cui voi potete entrare in questa masterclass e fare le vostre domande direttamente a Big e avere direttamente una risposta da lui cioè ragazzi già solo questo altro che mille euro cioè ragazzi il valore già solo di questa masterclass è assurda non entrare in scuola per ricchi con l'offerta da tre mesi anche per i più scettici o più che scettici perché poi gli scettici ci puoi fare fino a un certo punto ma anche per i più magari indecisi o giustamente dubbiosi magari non riescono a percepire veramente il valore di scuola per ricchi finché non lo testano non riescono a capire davvero quanto può impattare sul loro business e lo capisco ma questa è un'occasione da non perdersi per chiunque voglia provare e testare il livello della formazione di scuola per ricchi masterclass con Big Luca masterclass con gli aspetti speciali e masterclass con i coach ufficiali cosa sono queste masterclass con i coach ufficiali? sono delle masterclass degli approfondimenti che vi tengono sul pezzo a livello di informazioni relative alla monetizzazione relative al marketing relative a tutto ciò che concerne le aree della ricchezza vi faccio un esempio abbiamo il nostro copywriter chief che è da un bel po' ormai che si sta particolarmente infoniando specializzando e sta cercando di studiare e capire sempre di più nei confronti dell'intelligenza artificiale per scrivere in chiave copy per scrivere copy ok e sta facendo diversi approfondimenti diversi studi eccetera tutto quello che lui prende testa poi lo riporta nelle sue masterclass una volta che ha portato risultati giusto per farvi capire ha fatto questo è uno e poi ci sono tutti gli altri coach con gli altri argomenti ma nella masterclass che ha fatto sull'intelligenza artificiale è arrivato un feedback la mattina dopo dovrebbe non so non mi ricordo dove l'abbiamo pubblicato qua sulle pagine non ve lo volete cercare comunque e magari c'è anche nella sales non me lo ricordo comunque la mattina dopo una persona ha applicato quello che gli ha detto la Sara prima e si è fatto se non ricordo male 3000 euro solo applicando ciò che ha implementato grazie a quella masterclass ora ragazzi è una cosa comune quindi vuol dire che uno basta che entra in una masterclass e farà 3000 euro il giorno dopo ma no ragazzi ovviamente no ma c'è chi potrebbe tranquillamente farcela c'è chi potrebbe fare anche di più ma è solo per farvi capire il livello di informazioni che si possono ricevere all'interno di queste masterclass cavolo è arrivato questo puoi fare questo con l'intelligenza artificiale puoi mandare questo tipo di messaggi alla tua lista per farlo ti rifai calare direttamente da lui seguendo questi questi prompt adesso non voglio diventare troppo tecnico preso fatto applicato 3000 euro cacchio mica male no? e queste sono le masterclass quindi delle vere e proprie lezioni live mi raccomando sono live le masterclass interattive in cui c'è una prima parte dove il coach ufficiale approfondisce la tematica che vuole portare e vuole insegnare agli studenti e poi c'è la seconda parte della masterclass dove c'è un momento di Q&A dove chiunque può mettersi lì e fare le domande di approfondimento al coach ufficiale ok? quindi ricapitolando la scuola per ricchi academy oltre 250 ore di formazione dedicata al come si diventa ricchi business marketing imprenditoria mindset eccetera 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 tutor figura fondamentale per il vostro percorso che vi supporterà da qui a tutti i tre mesi i sei mesi l'anno in base a cosa a cosa scegliete rimanendo a vostra disposizione per rispondere alle vostre dubbi alle vostre domande alle vostre proplessità per capire cosa fare cosa non fare come muoversi eccetera coach ufficiale per avere la vostra consulenza una o tre a seconda del pacchetto che comprate ma fidatevi che già una sola consulenza vi può stravolgere completamente il business come vi ho detto prima masterclass live una settimana due con i coach ufficiali una con ospite speciale e una direttamente con Big Luca e cos'altro è lo scuola per ricchi club che sarebbe la community riservata solo agli studenti di SPR di scuola per ricchi dove potete confrontarvi fare domande approfondimenti eccetera 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 quindi io vi invito caldamente ad approfittare di questa offerta chiunque abbia anche solo il minimo la minima curiosità di capire di più nei confronti di scuola per ricchi di quanto può se davvero può e tra l'altro poi ci sono anche bella questa inquadratura con la mano mi ameranno quelli del team video ci sono anche tra l'altro quelli che partono da zero ragazzi in realtà questa offerta è anche per voi se se parite da zero e volete capire come iniziare a fare soldi cosa fare cosa non fare non c'è offerta migliore anche per voi perché anche nel nostro caso sappiamo cosa fare ci sono dei corsi all'interno dell'academy che sono dedicati esattamente a voi ci sono i tutor che vi possono guidare sulle vostre scelte iniziali c'è la consulenza che vi può un attimo indirizzare in base alla vostra attuale situazione a quello che sapete che non sapete ci sono tutta una serie di domande da fare in consulenza per capire bene qual è il vostro punto di partenza e qual è la soluzione migliore per farvi partire nel migliore dei modi ragazzi giusto l'altro giorno in consulenza è arrivato un ragazzo che si stava per fare molto male ha a disposizione le nostre informazioni ha a disposizione tutta una serie di vantaggi con scuola per richi entra in consulenza e gli tira fuori un progetto che non stava né in cielo né in terra senza avere l'adeguato budget voleva creare una roba fisica incasinatissima non sto qua da approfondire comunque che l'avrebbe semplicemente parato fuori strada gli avrebbe fatto bruciare una marea di capitale e forse un giorno avrebbe visto magari dei risultati cioè si possono fare soldi in maniera molto più veloce senza investire chissà quali capitali infiniti senza andare in debito senza rischiare di avere magazzini di roba che è invenduta lasciamo perdere comunque anche per chi parte da zero ragazzi siamo qui scuola per ricchi e a vostra disposizione per darvi il supporto che serve l'offerta è micidiale ragazzi 997 euro per tre mesi full immerso in scuola per ricchi con tutto il supporto che vi possiamo dare più di questo non possiamo fare nulla per farvi perlomeno toccare con mano cos'è scuola per ricchi e questa offerta nasce anche un po' per questo vogliamo portare all'interno di scuola per ricchi far testare a quante più persone possibili la qualità del supporto delle informazioni di scuola per ricchi quindi davvero entrate gamba tesa metteteci alla prova capite ci sono anche tante persone tante persone là fuori che magari è da tempo che seguono big i video di big ma non si sono mai avvicinate al 100% le nostre informazioni non hanno mai avuto diciamo così il giusto magari anche stimolo per comprare uno specifico corso magari perché si sentono troppo lontane da questo tipo di informazioni eccetera scuola per ricchi fa per voi entrate in scuola per ricchi capite poi ragazzi ripeto c'è la garanzia cioè non vi va bene quello che è i corsi vi fanno schifo perfetto chiedete il rimborso e amen vorrà dire che non siete allenati in realtà vorrà dire che non avete capito niente ma lasciamo perdere però avete il diritto di chiedere il rimborso senza problemi entrate in scuola per ricchi per questi tre mesi sfruttate tutto il supporto che vi può dare mettete sotto torchio il tutor diventerà per voi una guida sempre a vostra disposizione una guida esperta che sa di quello di cui si parla nel trono ragazzi cioè porca donna miseria ma possibile che per imparare qualunque cosa nella vita è giusto formarsi e quando c'è da imparare come si fanno i soldi con un'azienda come si fa come si aumentano le vendite come si aumenta lo scontrino medio come si aumenta lifetime value come si aumenta il netto il profitto netto che ci rimane in tasca la formazione non so dobbiamo avere dei dubbi e non solo formazione come compra al corso ormai siamo andati oltre quel tipo di livello siamo a compra al corso e vieni supportato dai nostri esperti dai tutor dalle consulenze eccetera entrate in scuola per ricchi metteteci della prova e vedrete che non ve ne pentirete chiudo con una ciliegina sulla torta su cui adesso non voglio approfondire troppo la tematica ok perché non è questa la sede adatta però vi ricordo che c'è anche l'operazione mangusta in tutto questo che ve la faccio veramente semplice sarebbe il come potenzialmente fare anche soldi promuovendo scuola per ricchi una volta che siete entrati avete testato la qualità delle informazioni la qualità del supporto voi potete prendere scuola per ricchi promuoverla in buona sostanza e ve la faccio semplice per chi non potrebbe non capire avete presente il porta un amico che potrebbe avere possono avere servizi come non so American Express o qualche broker o delle banche eccetera o anche altre altre realtà porta un amico perfetto parli di scuola per ricchi qualcuno quello lì entra in scuola per ricchi tutti prendi una percentuale e tra l'altro poi tutto quanto già strutturato vi diamo tutti quanti materiali che vi servono per promuovere scuola per ricchi per fare le generation per far entrare nuove persone eccetera eccetera però non sto qua ad approfondire il discorso che non è la sete adatta non è il video adatto però come ciliegina sulla torta c'è pure quello chi entra nel 3 mesi entra come basic chi entra nel 6 mesi entra come gold questo vuol dire che nel 6 mesi avrete una percentuale più alta ripeto non sto qui ad approfondirla rispetto che nei 3 mesi ma a me in questo video premeva far capire specialmente a tutti coloro che stanno ascoltando e hanno un'attività come imprenditore come libro professionista di non farsi scappare scuola per ricchi e anche chi di voi è a zero e vuole imparare vuole capire cosa fare come fare come iniziare a fare soldi da casa potenzialmente con un business molto snello magari non fisico o magari anche fisico e poi dipende ci sono delle decisioni da prendere da business a business però chi parte da zero di solito il nostro consiglio è di partire da roba digitale per tutta una serie di motivi che non sto qua ad approfondire ma che si approfondiranno all'interno di scuola per ricchi e davvero sfruttate questa offerta non fatevela scappare metteteci alla prova se poi non vi piacciamo ragazzi c'è il rimborso se vi piacciamo come molto probabilmente sarà non ve ne pentirete e vi renderete conto che già ben prima della fine dei tre mesi avrete dei grandissimi risultati da questo da questo acquisto che state per fare mi raccomando strisciate la carta ci vediamo all'interno di scuola per ricchi un saluto